Vorrei chiamare sul palco anche lo staff del Marietta Club, i ragazzi che hanno reso tutto questo stupendo, per me stupendo. Allora io volevo fare un complimento veramente grande ad Alessio e a tutta la sua squadra, nessuno ha notato che lui ha detto famiglia, devo dire che i ragazzi stanno facendo un lavoro fuori dal comune, complimenti verissimi a tutti quanti.